Ciao! Oggi volevo parlarvi di un sito che è questo qua che si chiama aspettate Victoria Loves Beauty che è un sito sul quale potete acquistare diverse cose un pochino più professionali un po' per gli addetti ai lavori è un sito che mi piace veramente tanto allora, io vi faccio vedere le cose che ho che mi sono state mandate mi sono state offerte gentilmente e sono aspettate se riesco ad aprirlo ve la faccio vedere sono praticamente degli applicatori monouso allora su questo sito potete trovare un po' di tutto diverse tipologie di applicatori occhi, labbra ci sono delle cose interessantissime proprio per noi addetti ai lavori ci sono ad esempio le salviettine monouso igienizzanti ottime da utilizzare per disinfettarvi le mani se dovete disinfettare la pelle se dovete pulire velocemente i pennelli e magari non avete a disposizione disinfettante perché l'avete finito ok ci sono in vendita proprio queste salviettine monouso e sono ottime ci sono poi dei contenitori per tenere a posto tutte le nostre cosine tutti i nostri tutti i nostri applicatori insieme al cotone ha della roba veramente carina in più un'altra cosa positiva che ha questo sito è che se siete truccatori se siete non lo so studenti presso qualche accademia se comunque siete all'interno del settore lavorate in questo settore avete la possibilità di avere una scontistica sull'acquisto vi basta andare sul sito vi lascio poi il link nell'info box e c'è una sezione che si chiama account e qualcosa business account mi sembra adesso non ricordo bene comunque si credo business account voi cliccate lì inserite i vostri dati nome e cognome mi sembra indirizzo mail e poi dovete inserire all'interno del riquadro dove potete inserire il messaggio delle indicazioni che certificano che voi siete realmente addetti ai lavori quindi non lo so l'indirizzo della scuola che frequentate i link ai vostri siti insomma ma qualunque cosa che atteste i certifichi che voi siete realmente dei truccatori o degli studenti presso accademia di trucco dopo aver inviato la richiesta vi risponde direttamente Vittoria o chi per lei e creano un codice sconto appositamente per voi quindi ogni volta che voi poi farete l'acquisto alla fine della schermata nella sezione voucher inserite appunto questo voucher che vi dà diritto alla scontistica vi dico già che i prezzi non sono elevatissimi sono abbastanza abbordabili allora questi sono alcuni dei miei applicatori e sapete bene che per noi che facciamo questo lavoro gli applicatori sono fondamentali specialmente quelli da mascara perché per quanto riguarda le labbra io posso prendere il rossetto il gloss comunque con un pennellino disinfetto il pennellino e via ma per quanto riguarda gli occhi gli applicatori da mascara sono indispensabili allora io qui ne ho aspettate di diverse misure allora ad esempio c'è questo qui io sono sempre in una posizione scomodissima allora c'è questo qui che è il classico scopolino e il manico in legno poi c'è questo che è quello curvo vedete e li potete scegliere in base alle vostre esigenze c'è questo qui vedete che è più conico c'è quello grande perché ormai abbiamo capito che non è il prodotto che fa la differenza quindi non è il prodotto all'interno che allunga separa in curva ma è lo scovolino quindi fare un acquisto del genere oltre che essere comunque una cosa che dovete assolutamente fare perché l'igiene è la prima cosa qualunque accademia vi insegna che l'igiene è veramente la primissima cosa per un truccatore quindi vi dicevo oltre ad essere comunque una questione di igiene e anche una questione se vogliamo di risparmio nel senso che se siete alle prime armi state iniziando fare un investimento di che ne so 5 euro di scovolini è molto più conveniente che fare un investimento di 50 euro comprando 5 diversi tipi di mascara per avere quello allungante quello incurvante quello modellante non fate ne tante comprare le diverse tipologie di scovolino in base al risultato che volete avere e avete appunto con un unico mascara allora vi ricordo che tutti gli scovolini cicciotti come questo qui quindi molto grandi sono volumizzanti gli scovolini un pochino più affusolati un po' più lunghi tipo questi qua sono allunganti e separano bene le ciglia quest'altra tipologia di scovolino invece sono gli scovolini che vanno a incurvare perché avendo proprio la forma già curva AC vanno a pettinare e a dare bene piega alle ciglia e poi c'è questo qui che è quello piccolo piccolo che vi è utilissimo e comodo per le ciglia inferiori perché essendo molto piccolo non rischiate di andare a sporcare perché immaginate di avere un mascara tipo di questi volumizzanti con uno scovolino molto grande quando andate a pettinare e truccare le ciglia inferiori a meno che non abbiate un'ottima manualità e comunque non facciate questo lavoro da un po' di tempo insomma rischiate di macchiare poi c'è questo pennellino qui che è un semplicissimo pennellino angolato da utilizzare per le sopracciglia spugnettina spugnettina gloss eyeliner con non con le setole diciamo con la spugnettina vedete ok questo pennellino qui che in teoria dovrebbe essere per il rossetto ma questo qui non mi piace proprio per niente è un po' bruttino questo non ve lo consiglio ecco questa tipologia qua e poi c'è quest'altro che è sempre da eyeliner ha la punta un po' più lunga rispetto a quest'altro vedete quindi essendo più lunga vi permette in base alla pressione che esercitate di avere un tratto più sottile o più o più spesso a differenza di questo qui che è come se fosse una specie di punta di pennarello vi dà un'unica intensità di tratto quindi questi sono gli applicatori che io ho a disposizione adesso da farvi vedere mi sono trovata benissimo nel senso che c'è una vasta scelta i prezzi sono sono abbastanza buoni la merce è arrivata in pochissimo tempo perché mi è arrivata circa ci avrei impiegato forse una settimana neanche ad arrivarmi quindi insomma io direi che più che promosso come come sito e soprattutto come qualità di prodotti vi lascio tutto nell'info box il link al sito il link alla sua pagina facebook sono molto carine rispondono abbastanza in fretta se avete delle domande da fare e niente ovviamente dubbi curiosità infobox e vi rispondo al più presto un bacio alla prossima ciao